Penultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in un clima di crescente scontro. Se vengo eletto, governerò. Il candidato governatore del centro-sinistra in campagna De Luca non sembra scosso dal rischio decadenza in caso di vittoria a causa della legge Severino. È un problema superabile, chiosa l'ex sindaco sceriffo di Salerno, convinto del sostegno del premier Renzi, ma proprio la possibilità di modificare la legge Severino scatena la reazione di Silvio Berlusconi, che a causa di quella legge è stato costretto a lasciare il senato. Per me, tuona l'ex cavaliere, il premier non si è mosso, ma Berlusconi guarda al voto regionale in chiave nazionale. Il numero che io penso ponga in discussione la possibilità di Renzi di restare al governo è una nostra vittoria in tre regioni. Ma non soltanto il caso De Luca, per domani attesa l'ufficializzazione da parte della commissione antimafia, della lista dei cosiddetti impresentabili, ossia candidati che hanno avuto a che fare con la giustizia. Al momento si conoscono solo i nomi di quattro candidati, tutti pugliesi, che tuttavia non hanno alcuna intenzione di fare un passo indietro, fuori subito i nomi. Attacca invece Grillo, anche per il ministro dell'Interno Alfano sarebbe stato necessario anticipare la pubblicazione dell'elenco degli impresentabili.